La notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022, la federazione russa ha aggredito l'Ucraina. Questo è il risultato di tensioni prolungate negli anni, di un conflitto di interessi tra questi due paesi. Ma come mai Russia e Ucraina non vanno molto d'accordo? C'entra solo la dimensione occidentale assunta dall'Ucraina negli ultimi decenni o c'è anche dell'altro? E Putin ha davvero ragione quando dice che l'Ucraina non esiste. Beh, lo scopriremo in breve, e il miglior modo per farlo è indagando sulle origini di questi due paesi. Il Basso Pieno Sarmatico è un'area popolata dall'uomo sin dal Neolitico, vista la completa assenza di barriere naturali e una grandissima presenza di fiumi. Vari popoli hanno abitato queste vaste pianure, fra un glofinnici, turchici, valtici e varie popolazioni nomadi. Gli Slavi, cioè i Uderni padroni di queste terre, sarebbero penetrati dalla Poronia soltanto nel VII secolo, assimilando le altre popolazioni. La struttura politica degli Slavi era di tipo tribale, ma questo cambiò quando arrivarono i Rus, una popolazione di origine scaldionava, nei territori della Russia europea, i quali rivoluzionarono l'ordinamento giuridico degli Slavi, venendo però assimilati e rinunciando alla loro cultura norrena. Per i Rus, il Basso Pieno Sarmatico era una zona di grande importanza strategica, con i suoi fiumi navigabili infatti permetteva loro di commerciare con l'Oriente, nella fattispecie con Bizanzi. Lungo uno di questi fiumi, il Dnepr, venne fondato un avamposto, Kiev, che sarebbe diventata poi la città di origine di quelle che oggi sono le culture di Russia, Bielorussia e Ucraina. Nell'882, il re rus di Novgorod, Oleg, conquistò la città di Kiev, spostando lì la capitale del suo regno. Con l'occupazione di Kiev, Oleg sottomese i popoli circostanti sotto una federazione di principi e signori, creando così la Rus di Kiev. Dal 980 inizia un periodo di splendore per lo stato di Kiev. Vladimir I, occupandosi più dell'amministrazione interna, portò sviluppo economico e sociale, convertì la popolazione al cristianesimo e stipulò relazioni commerciali con gli eredi di Roma, a Oriente. Infatti il legame con Costantinopoli fu decisivo, infatti questo legame sedimentò le fondamenta ortodosse sulle quali ancora oggi si basano Russia e Ucraina. Dopo la morte di Vladimir I nel 1015, iniziò un lento decadimento per i rusti Kiev. Con il tempo, sempre meno centralizzati e divisi, furono vittime di incorsioni di Polacchia ovest e mongoli dalle steppe. La caduta dei Kiev nel 1240 portò alla fine dello stato, con il totale annientamento da parte dei mongoli. Russia e Ucraina e Bielorussia furono le più grandi vittime dell'espansionismo mongolo, con i principati ridotti a vassalli e tributari dell'orda d'oro. Il Ducato di Moscovia, tuttavia, fondato nel 1263, godeva di una situazione ben diversa. Infatti, al contrario dei suoi vicini, Mosca aveva la carica di settore di tributi per l'orda d'oro, posizione che favorì la sua influenza e, con il declino di Kiev, l'élite religiosa si spostò persino a Mosca. Nel 1380, al Principato, aveva raggiunto una tale influenza da freggiarsi del titolo di Gran Ducato, e cent'anni più tardi a liberarsi dalla dominazione mongola. Con la fine della dominazione mongola, inizia così lo spartiacco tra Russia e Ucraina. Infatti Mosca si trovò a controllare i territori più settentrionali, mentre Bielorussia-Ucraina vennerà soggettate tra il 1220 e il 1365 della Lituania, e poi confederazione polacco-lituano nel 1569. La dominazione della confederazione portò in Bielorussia-Ucraina secoli di influenza occidentali, risultando in una differenziazione dalla lingua ucraina, Bielorussia e Colauco-Russa. Un altro tratto che caratterizzò le distinzioni tra Russia e Ucraina furono i cosacchi, contadini e schiavi liberati di diversa provenienza, ma accomunati però dalla ricerca di condizioni di vita migliori nel meridione dell'Ucraina. In breve diventarono una comunità autonoma all'interno della confederazione, e a lungo furono a causa di problemi per i polacchi, russi e ottomani, per il loro acceso desiderio di autonomia. Nel 1649, i cosacchi riuscirono persino a fondare un'identità statale indipendente, a discapito dei polacchi, dettmanato cosacco, che in seguito sarebbe alimentato un vansallo del reno di Russia. Eventualmente, con la graduale spartizione della confederazione polacco-lituania e l'espansionismo russo, Ucraina e Bielorussia si ritrovarono inglobati all'impero di Casaromano. I russi, che avevano creato un impero che si estendeva fino alla Nord America, trattarono i territori soggiogati in un modo simile ai mongoli secoli Pema, tassando e avviando un processo di russificazione dei territori, che tentò di eliminare ogni autonomia e cultura diversa da quella russa. Questo processo è infatti la causa per cui in molti paesi dell'est Europa sono ancora oggi presenti i consistenti minoranze russofone. La russificazione, tuttavia, non eliminò la identità culturale ucraina e le idee portate dei francesi come illuminismo e nazionalismo rinvigorirono soltanto la popolazione ucraina, dando via a varie ribellioni nel corso dell'Ottocento. Con la caduta del regime zarista nel 1917, l'Ucraina dichiarò l'indipendenza sotto protezione dei tedeschi e si schierò con l'armata bianca durante la rivoluzione russa. La guerra non andò a buon fine, così l'Ucraina diventò una repubblica costituente della neonata Unione Sovietica fino al 1991. Sotto l'Urs, l'Ucraina subì gravissimi colpi. L'Ordodomor, una riforma dei terreni portata avanti da Stalin, portò alla morte di milioni di contadini in Ucraina, ma nonostante questo e ulteriori processi di russificazione, l'identità ucraina rimase intatta. Nel 1991, la popolazione della Repubblica Sovietica Socialista Ucraina votò a maggioranza per l'indipendenza, creando così la moderna Repubblica di Ucraina. Quindi, ricapitolando, seppur con un linguaggio e una cultura originate nello stesso stato, russi e ucraina hanno intrapeso percorsi differenti, con gli ultimi che vennero influenzati dall'Occidente tramite domenazione polacca e che crearono una loro identità culturale grazie alla riluttanza dei cosacchi a farsi dominar da un potere centrale. La russa, invece, creò un impero immenso che si è espansi fino alle Americhe, proiettando il suo dominio su tutte le popolazioni conquistate, russificandola. Nonostante questo, però, l'identità culturale di Ucraina venne preservata, sino alla dichiarazione di indipendenza nel 1991. Il video finisce qui. Vi chiedo scusa se avete dovuto aspettare vari mesi per vedere questo video, che poi è anche corto, ma ho avuto problemi con la scuola, quindi niente di che. Inoltre, però, devo farvi un annuncio. Io per questi prossimi mesi sarò negli Stati Uniti e tornerò a fine agosto, quindi penso proprio che come prossimo video farò la storia dei Stati Uniti. Ditemi cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!